Ciao ragazze, oggi vi faccio un video sugli ultimi acquisti perché nell'ultimo mese ho comprato qualche cosetta che vi volevo far vedere vi faccio vedere volentieri allora intanto cominciamo dagli acquisti delle cose finite ho ripreso parole di burro eccolo qua perché il mio era finito guardate la differenza tra quello finito e quello e quello nuovo eccola qua praticamente era rimasto il dischettino centrale eccolo qui quindi insomma ora comincerò sicuramente ad usare quello nuovo perché quello vecchio ogni volta che lo utilizzo mi si spezzetta tutto e quindi insomma passerò a quello nuovo allora poi vediamo un po' non so se avete visto sulla pagina Pupa Milano c'è la promozione la promozione insomma se mettete mi piace alla pagina potete scaricare dei coupon per avere degli smalti ad 1 euro e poi a 5 euro il mascara Pupa Lampo e degli ombretti io intanto ho ritirato gli smalti ne ho ritirati 3 perché avevo 3 coupon anzi avrei un altro coupon solo che siccome si deve scegliere la profumeria quando si scarica il coupon io ho scelto nella stessa profumeria questa questi e in un'altra profumeria l'altro che mi manca e quindi per ora insomma vi faccio vedere questi che ho ritirato allora questo centrale è lo smalto che mi sono messa oggi eccolo qua la stesura io ne ho un altro di questi smalti ah allora sono della linea lasting color gel io ne ho un altro, ho il marrone cioccolato che non si stende molto bene questi 3 invece si stendono perfettamente allora questo qua rosso è il numero 29 eccolo qua questo qui che ho le mani adesso è il numero 48 e questo è il numero 25 insomma voi andate sulla pagina di Pupa mettete mi piace e vi scaricate il coupon e li potete avere ad 1 euro non mi ricordo tra l'altro quanto costino tra qualcosa mi sembra insomma comunque li potete avere ad 1 euro poi mi sono presa da Limoni la CC Cream vedete? Magic CC Cream per capelli della L'Oreal della Collistar color cioccolato è una maschera colorante per i capelli poi vi farò sapere com'è e niente io l'ho presa perché odio farmi le tinte per i capelli perché le devo tenere su tantissimo invece questa qua si tiene in posa dai 5 ai 15 minuti e siccome ne ho sentito parlare benissimo in un gruppo su Facebook e me ne hanno parlato veramente veramente bene la voglio provare poi è profumatissima poi essendo una maschera magari mi abbormidisce anche un pochino i capelli e insomma vediamo insieme allora questo non so se ve l'ho detto l'ho preso da Limoni sì mi sembra di avervelo detto e mi sono fatta dare dalla commessa questa questo cartoncino con i tester dei rossetti Chanel delle nuove colorazioni qui c'è il pennellino e qui ci sono i rossetti e quelli qua ve li faccio vedere non so se li vedete vabbè insomma questi qua sono i nuovi rossetti questo qua è un tester basta che glielo chiedete e se ce l'hanno in teoria ve lo dovrebbero dare io alla fine ho speso pochissimo 12 euro e qualcosa e me l'hanno dato quindi non è neanche che dovete fare tutta questa spesona per averlo sempre in tema Chanel io mi sono presa due cose eccole qua uno smalto uno smalto e un rossetto allora lo smalto e il rossetto io li ho presi li avevo visti in negozio prima di comprarli in negozio perché lo smalto costa 24 euro il rossetto costa 30 euro e 99 prima di comprarli in negozio ho fatto una ricerca su internet vi consiglio vivamente di farlo perché io questo invece che 24 euro questo è il blue boy eccolo qua non è che metto benissimo però vabbè questo è il blue boy l'ho pagato con le spese di spedizioni 8 euro ok invece che quasi 24 euro ed è praticamente nuovo vedete anche la scatola è intatta quindi la ragazza che me l'ha venduta ha detto che l'ha usato una volta soltanto l'avessi usato anche 6 volte comunque è praticamente nuovo io l'ho pagato 8 invece che 24 la stessa cosa vale per il rossetto che invece era completamente era completamente nuovo mai usato l'ho pagato 20 euro con le spese di spedizione invece che 30 e 99 vale a dire che per il rossetto e per lo smalto ho speso meno che per il rossetto nuovo da solo la confezione è bellissima guardate questo è il rouge allure numero 99 se vi interessa saperlo eccolo qua ok eccolo qui questo rossetto è bellissimo quando l'ho visto me ne sono completamente innamorata solo che sinceramente 30 euro quasi 31 euro per un rossetto mi sembravano veramente uno sproposito quindi vi ripeto fate una ricerca su internet prima di comprare le cose così costose in profumeria che non si sa mai vedete io alla fine ho risparmiato un sacco poi da Amazon UK ho fatto un ordine per prendere la spazzola Tangle Teaser che è questa qua questa è la cosa per cui ho voluto fare il video questo è il sito internet eccolo qua perché non vedo niente eccolo qui questo è il sito internet TangleTeaser.com allora questa spazzola è una spazzola particolare vedete l'impugnatura eccola qua praticamente non tira e non strappa i capelli io soffro tantissimo quando mi pettino i capelli ma veramente nonostante che abbia i capelli liscissimi soffro veramente in modo esponenziale quando li devo spazzolare e questa spazzola questa spazzola addirittura sembra che non funzioni che non spazzoli da quanto non sentite niente e invece vi lascia i capelli perfettamente morbidi senza nodi e senza veramente tirare niente ok quindi io se soffrite come me quando vi spazzolate i capelli ve la consiglio perché è comoda prima di tutto e poi veramente fa quello che promette non strappa e non tira i capelli io sono felicissima di averla comprata non mi ricordo mi sembra di averla pagata sulle 9 sterline su amazon.uk però insomma se fate un c'è il sito ufficiale poi comunque se fate un giro su internet magari la trovate anche ad un altro prezzo quindi ho preso questa ho preso che non vi interessa l'album di Mark Owen e poi ho preso la crema per le mani della Barts Bisa la banana che era tantissimo che la volevo provare allora mi è piaciuta un sacco la confezione come vedete in un barattolino di vetro tipo quello dell'omogenizzato eccola qua l'aprite e vi arriva subito un profumo fortissimo di banana questa è la consistenza della crema vedete è proprio burrosa guardate vedete poco comunque è una specie di burro è proprio una specie di burro per per le mani e lascia la pelle morbidissima non unge neanche tantissimo essendo consistenza così burrosa e appena l'aprite sentite insomma questo profumo fortissimo di banana e sulla pelle un po' meno si sente più credo sia la cera d'api credo che ci sia la cera d'api sì insomma comunque questa crema è buonissima ho preso anche sempre della Barts Bisa però su un altro sito e non mi è ancora arrivato quindi non ve lo faccio vedere il burro di cacao quello classico al miele che ho sentito parlare bene da tutti e quindi ho voluto provarlo avevo un 10% di sconto e quindi l'ho utilizzato su quello e l'ho pagato sui 2 euro l'ho pagato pochissimo sto aspettando che arrivi e quindi purtroppo non ve lo posso far vedere poi ultima cosa l'ho tenuta per ultima perché non perché ha il pezzo forte quando sono andata da appisa dalla Lush sono andata anche da Coin per vedere le Yankee Candle ogni volta che ci vado vado da Lush passo anche dalla Coin e di solito mi prendo o una votiva insomma una jarra piccola questa volta ho voluto esagerare ho preso una jarra media allora ho preso questa jarra media c'era anche piccola non c'era soltanto media però era troppo buona e l'ho dovuta prendere all'inizio avevo preso la Red Velvet quella al Cupcake Red Velvet poi ho visto questa che è nuova vedete e dietro c'è questa carinissima vedete sul cartellino poi ho visto questa Salted Caramel e non ho potuto resistere l'hanno usata le ragazze guardate non ho potuto fare a meno di comprare la volevo comprare grande in realtà però 28 euro non me la sono sentita sinceramente di spendere 28 euro così tutti d'un botto e l'ho presa media perché comunque voglio dire anche media è già un bel bombardone e guardate voi non potete capire sa proprio di caramello e sa di quel caramello un po' sbruciacchiato sapete tipo quello che è sulla crema catalana insomma è una meraviglia infatti non vedo l'ora di accenderla è più di una settimana che l'ho comprata ma stavo aspettando che mi arrivassero le altre cose per fare il video e adesso la devo accendere perché non vedo l'ora di sentire che profumazione manda quando è accesa insomma ragazzi io ve la straconsiglio perché è veramente fantastica e d'ora in poi credo che prenderò queste già remedi anche se costano un po' perché sono fantastiche sono molto molto belle a vedersi e sono meravigliose tra l'altro non c'è dove l'ho messa non lo so non ho idea sul sito della Yankee Candle avevo letto che si poi i barattoli si potevano riutilizzare perché si potevano lavare facilmente e infatti con una di quelle piccole c'era rimasto dentro ve lo dico perché se la volete fare c'era rimasto il fondino era finito lo stoppino quindi c'era rimasto proprio il fondino della candela io l'ho messa ho messo un pentolino proprio piccolino d'acqua con proprio due dita d'acqua sul fuoco e ci ho messo la candela dentro in due minuti si è staccato il fondino è venuto via e il barattolo è rimasto perfettamente pulito non c'è rimasto neanche un pezzettino di cera quindi praticamente lo potete usare poi per quello che volete quindi quando poi avrò finito questo utilizzerò sicuramente il barattolo fatelo se avete dei barattoli perché è semplicissimo basta che mettete due minuti la candela nell'acqua o forse nel microonde anche se avete il microonde si stacca tutto e i barattoli vengono puliti alla perfezione io ho lasciato l'adesivino perché mi piaceva però comunque provate se ce l'avete a casa finiti ve lo consiglio perché è facilissimo da fare e il barattolo alla fine è un bel barattolo quando si compra una candela di queste io penso che una buona parte del prezzo sia proprio data dal barattolo quindi tenetelo e riutilizzatelo perché comunque guardate alla fine è un bel barattolone e fatemi pensare per ora è tutto vi ho fatto vedere tutte le cose che ho preso spero che questo video inutilissimo vi sia piaciuto lo stesso vi mando come al solito un bacio ah prima di salutare vi volevo ringraziare perché in pochissimo tempo anche lo so che non sono molti però insomma io sono già contenta abbiamo superato i 500 iscritti magari poi sui 1000 vedremo se fare un giveaway qualcosa del genere per ringraziarvi insomma perché sono contenta che mi seguiate in così tante quindi vi mando 500 baci e ci sentiamo ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.